buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vi faccio vedere una funzionalità di whatsapp che al momento è presente solo sulla versione browser di whatsapp cioè whatsapp web ma che non è ancora presente almeno mi risulta così in whatsapp desktop cioè whatsapp per windows e neppure in whatsapp per dispositivi mobili adesso con whatsapp web si potranno creare degli stickers degli adesivi personalizzati in maniera piuttosto semplice si va su whatsapp web whatsapp web web whatsapp punto whatsapp questo qua si apre ci seleziona una chat e qui come vedete in basso ci sono due opzioni la prima è per aggiungere delle emoji la seconda è appunto per aggiungere dei file degli allegati tra cui anche gli stickers ci si clicca sopra qui ci sono i pulsanti per aggiungere foto e video qui per la fotocamera documenti contatti e questo è quello per lo sticker ci si clicca sopra e si aprirà esplora file in cui caricare una foto con cui creare uno sticker personalizzato possiamo per esempio selezionare questa foto qua cioè su apri e si aprirà un editor per creare uno sticker con questa foto personalizzata naturalmente uno può scegliere anche una nostra foto anche catturata sul momento con la fotocamera per esempio con questa opzione possiamo ridimensionare la foto però purtroppo la possiamo fare solo quadrata gli sticker sono tutti quadrati questo modo qua ecco fatto poi possiamo per esempio qui tagliare eventualmente o aggiungere magari delle emoji ci si clicca sopra si sceglie una emoji questa era inserita nello sticker qui la possiamo ridimensionare per esempio possiamo poi spostare che so qui aumentiamo di dimensione la possiamo anche un po inclinare ruotare questo modo e poi possiamo che so aggiungere il testo che si clicca sopra sono triste ecco qua si clicca esternamente anche in questo caso si può naturalmente ridimensionare si può ruotare e magari si può mettere da un'altra parte qui è per disegnare qui in basso c'è il tratto del disegno che si vuole usare che so io adesso qui c'è anche la dimensione del pennello vedere e qui c'è la possibilità di aggiungere degli sticker da parte dello sticker store di whatsapp qui ci sono gli sticker quelli già creati aggiungiamo questo per esempio mettiamo quassù quando siamo soddisfatti possiamo andare su invia per inviare il nostro sticker che sarà mostrato nella chat che abbiamo selezionato facciamo un'altra prova si clicca sull'allegato sticker si seleziona questo verso apri si va subito sul ridimensionamento sul crop diciamo così purtroppo dobbiamo sempre mantenere il quadrato ecco fatto poi possiamo aggiungere che so una emoji profondizzazione da qua e poi possiamo aggiungere magari uno sticker questi vedete il nostro stick che ho appena creato e quindi è stato già salvato nella mia raccolta di sticker per riprenderlo successivamente e quindi magari per inserirlo in un altro sticker si possono direttamente salvare gli sticker per poi riprenderli e ripubblicarli automaticamente mandiamo su invia ecco fatto poi facciamo un'altra prova per vedere se è supportata la creazione di sticker animati come non detto non si possono al momento creare degli sticker animati infatti se vado qua e aggiungo sticker se aggiungo questo sticker che animato vi faccio vedere che animato vedete che animato è una gif animata che ora aggiungo non è più animata io la posso anche che solo ridimensionare ma possono aggiungersi del testo ma sposto qua lo ridimensiono ecco fatto posso scrivere qualcosa anche ma posso anche costare quello che mi pare ma quando vado sulla per la pubblicazione nella chat lo sticker non è più animato non viene animato però sarà presente vado su sticker magari c'è un altro sarà presente sulla libreria degli sticker che ho appunto creato come vedete questa è la libreria degli sticker a cui io posso fare riferimento nel momento in cui li ho creati però gli posso posso creare quelli animati scegliendoli qua quelli già predisposti da whatsapp questo modo però allora per poterlo fare devo innanzitutto eliminare questo qua per esempio fare così da su sticker saluti aggiungo questo poi vado su crop e elimino lo sticker iniziale e lascio soltanto questo vado su invia però il risultato non cambia e lo sticker non è animato i sticker che abbiamo poi pubblicato si visualizzano naturalmente anche nella versione desktop dice scusate nella versione per il mobile e se io tocco su uno sticker come vedete lo posso aggiungere preferiti in questo modo per poterlo utilizzare una altre volte se invece utilizzo whatsapp per il desktop non ci sarà possibilità di aggiungere sticker perché se si va qua sull'icona dell'allegato ci possono aggiungere file se per esempio io cerco file qui come ci posso disegnare sopra questa immagine ma non posso aggiungere ma non è la stessa funzionalità che abbiamo visto precedentemente su whatsapp web e questo è tutto alla prossima volta